Il Genoa ha fatto una buona partita da squadra C'è stato da parte di tutti una grande disponibilità, coinvolgimento E competere oggi contro l'Udinese, giocarsela contro l'Udinese Vuol dire che tu hai fatto una buona partita Ha sottolineato i meriti della sua squadra Aveva chiesto alla vigilia umiltà e rabbia agonistica Sicuramente sono arrivate, che risposte ha avuto dalla squadra? Una conferma che questa è la strada per il Genoa da percorrere Ma da squadra, facendo tanta fatica, con grande attenzione E poi anche con qualità di gioco Perché poi è importante correre, essere ordinati Ma poi dopo è importante anche saper fare bene le due fasi di gioco Forse a proposito, meritavano un esito migliore le due occasioni nel finale di Zaic e Berami Che sono comunque la prova che avete provato a vincere fino all'ultimo minuto Ma sì, il Genoa è questa, è una squadra che non si risparmia mai Quindi fino alla fine cerchiamo di mettercela tutta Di spendere anche fino all'ultimo quello che abbiamo dentro E ci teniamo la bella prestazione Poi è chiaro che se andavi sul 2-1 alla fine eri molto più contento Però la prestazione è stata buona La prestazione è stata buona e ora sono anche 8 i risultati utili consecutivi in casa Il tifo rosso-blu sicuramente manca Però si può iniziare a parlare di effetto Ferraris? Ma forse la spinta ci arriva lo stesso Mi piace pensare che a casa nostra noi sentiamo quella passione, quell'amore Quella vicinanza che davvero i nostri tifosi ci donano ogni volta La prossima gara però è la trasferta di Parma Che partita vi aspettate e come la preparerete? Ah beh, una partita di una difficoltà altissima Perché probabilmente il Parma Non probabilmente, certamente il Parma giocherà alla morte Ma giocherà alla morte come dovremmo giocare noi Perché ha una situazione di classifica così complicata Ma l'abbiamo, insomma, non è che Gli stimoli, le motivazioni Se noi abbiamo meno motivazione di loro Vuol dire che non abbiamo capito niente Grazie, grazie 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 a tutti